Apeglio Vipros LKI 250 è il sistema di carico automatico. Le ventose basculanti consentono lo sfoglio di ogni singolo pezzo di lamiera. Un sistema di misura ne verifica lo spessore e quindi avviene il successivo passaggio alla macchina combinata a punzonatrice laser Apeglio Vipros. Inizia così la lavorazione con opere di punzonatura. E quindi ecco scendere in campo l'utensile per il taglio laser, che attraverso le varie fasi programmate consentirà di ricavare dal foglio di lamiera i pezzi finiti. Lo stesso sistema di carico provvede ora a recuperare lo sfrido residuo e a farlo scivolare in un apposito contenitore. E nel contempo si appresta, grazie a un sistema parallelo di cambio pallets, a caricare la macchina Apeglio Vipros con altro foglio di lamiera. Il sistema di scarico automatico dei singoli pezzi lavorati, chiamato SAS, provvede quindi a prelevare dalla macchina tramite ventose ogni singolo pezzo, che viene ordinatamente impilato su pallets e inviato al magazzino salvaspazio a ripiami, predisposto per ospitare il prodotto finito. Terminata la lavorazione, i pallets di prodotto finito vengono fatti uscire, caricati e consegnati alle successive fasi della lavorazione. Apeglio Vipros, cella flessibile di produzione per lavorazioni di elevata qualità. Amada Schiavi, macchine e sistemi per la lavorazione della lamiera, leader nel mondo.